E ciao a tutti ragazzi da Lunkered e benvenuti in questo nuovo video Ragazzi vediamo che inizia il video Buongiorno Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera Non so quando vedrete questo video Ehm Oggi andremo a fare I sorteggi Dei playoff del mondiale Ci siamo anche noi purtroppo Però quest'anno i playoff funzionano In una diversa maniera Ci sono 3 gironi da 4 squadre Che è semifinale finale Dove All'interno ci saranno 2 testi di serie E 2 non testi di serie Una testa di serie Affronterà una non testa di serie E viceversa In semifinale Chi vince va appunto in finale Chi vince le 3 finali Quindi ci saranno 3 finali per tutti e 3 gironi Va diretto al mondiale Quindi in Europa mancano altri 3 posti Qua ci sono le testi di serie E sono Siamo noi Portogallo Svezia Russia Galles E Scozia Poi le non testi di serie Austria Polonia Turchia Ucraina Repubblica cieca E Macedonia Secondo me il mio pronostico È Italia Russia Ucraina E Macedonia Allora Le testi di serie Da evitare Sono Portogallo Svezia Da prendere Non Cioè quelle là Che se le prendo Potevo dire Che Cioè me va bene Però Le potevo anche evitare La La Russia E il Galles E Da prendere Assolutamente È la Scozia Vabbè Ovviamente non siamo noi A prenderle Ma I sorteggi Quindi Poi Da evitare Prima Le non testi di serie Austria Polonia Turchia Ucraina Da prendere Non Che Anche qui è la stara cosa Se le prendo Sti cavoli Ma va bene Ma Poto anche Evitarle La Repubblica cieca E da prendere Assolutamente È La Macedonia La vado a fare Tutti e tre Gironi Appunto Se no Che senso ha Gruppo A Iniziamo E la prima A uscire È Siamo noi Appunto Non so Se si vede In Italia Ed è però Qualcosa Per appuccio In Italia Poi Peschiamo anche L'altra testa di serie L'altra testa di serie Ma ragazzi C'ho paura Di playoff Non ci credo Cioè ragazzi La serie si ripete Svezia Svezia Vediamo Non testa di serie Ragazzi Ragazzi Mi sa porto male Turchia Io la turchia La turchia La aiuterei Come dai Ci è andata bene Dai A meno una Macerogna Fai il gruppo B Gruppo B Portogallo E ci siamo Li faccio tutti Portogallo La rossa Poi per affrontare la non testa di serie Non so come funziona Tanto faccio il sorteggio Repubblica cieca Polonia Gruppo C Gruppo C Gruppo C Un po' di me ne ricordo Però Non benissimo Scozia Anche l'ultima Galles Dovrebbe essere Dovrebbe essere Bene Ma lo ricordo Va bene Galles Poi non Tessi di serie Mi scazia Galles Manca poi L'Austria E Ucraina Dovrebbe essere Mi manca l'Austria E Ucraina Austria E l'Ucraina E l'Ucraina Allora Quindi ragazzi ripeto Gironi Gruppo A Italia Svezia Turchia Macedonia Gruppo B Portogallo Russia Repubblica cieca Polonia Gruppo C Scozia Galles Austria Ucraina Secondo me Dico solo i finali Perché sono Scaramantico La finale Del nostro giorno E' Italia Svezia Svezia Di nuovo Il gruppo G Portogallo Portogallo Polonia Gruppo C Austria Ucraina Così E che dì ragazzi Per questo è tutto Lasciate like Iscrivetevi Atrivate la campanella E noi ci vediamo Come sempre In un nuovo video Ciao ragazzi